Nuoro, la città che questa mattina all'alba è rimasta sgomenta di fronte all'ennesima tragedia familiare, un dramma che ha lacerato non solo vite ma anche la serenità di un'intera comunità, lasciando dietro di sé una scia di dolore sconcerto. La provincia era già stata segnata in passato da episodi simili, come quello tragico avvenuto a marzo 2019, quando l'ex agente penitenziario Ettore Sini uccise l'ex compagna Romina Meloni e ferì gravemente alla testa il nuovo fidanzato della donna, Gabriele Fois, in un delitto consumato anch'esso all'interno di un contesto familiare. Dopo alcune settimane di coma, Fois si era risvegliato e aveva ripreso la sua vita fino allo scorso 24 agosto, stroncato da un malore. Il nuorese è tristemente noto per la sua incidenza di omicidi volontari, registrando il più alto tasso tra le province italiane ogni 100.000 abitanti, come confermato dalle statistiche dalla Banca Dati Interforce del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Oltre agli omicidi, i dati provinciali mostrano un incremento preoccupante dei casi di violenza domestica. Solo nei primi cinque mesi del 2024 sono state registrate 79 denunce per violenza domestica e 30 per stalking nell'intera provincia. Si tratta di un aumento rispetto al 2023, con un totale di 124 casi di maltrattamenti in famiglia e 89 episodi di stalking registrati, numeri che certamente rappresentano solo una punta dell'iceberg, lasciando intravedere un fenomeno molto più vasto e sommerso e che, insieme all'episodio di oggi, accentuano l'urgenza di affrontare un problema crescente e di rafforzare le misure di prevenzione e tutela per chi è vittima di violenza all'interno delle mura domestiche.